Prima di darvi la benedizione, vorrei ringraziarvi questa calorosa accoglienza e anche durante tutta la giornata. Ringraziare il Signore Arcivescovo, il Cardinale Arcivescovo, ringraziare i Cardinali e i Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana col suo Presidente. Tutto quello che avete fatto oggi per me, la testimonianza, è un ringraziamento per ognuno di voi. Ma specialmente vorrei dire un grazie ai carcerati che hanno fatto questo altare dove Gesù oggi è venuto. Grazie per aver fatto questo per Gesù. E a tutti di voi, grazie tante e per favore vi chiedo di pregare per me.